Quindi il gol di tacco ci dicevi Giussi che compie un anno? Esatto, lunedì 12 gennaio fare il bambino farà un anno E qual è la festa che farà il regalo a questo bambino? Il regalo lo vedrete presto perché avremo un bel salto di qualità a livello editoriale nel senso che il gol di tacco rimarrà mio, sarà sempre mio, ovviamente anche di Erika e delle altre ragazze però traslocheremo in un bel posticino La vostra redazione? Sì, sì Senza cambiare ovviamente i editoriali Parliamo della nuova puntata, chiamiamola così, del nuovo incontro di Aperitivo nel pallone Ricordiamo ancora che cos'è? Sì, si terrà martedì sempre all'Angeli Rock, è un format di eventi creato da gol di tacco a spillo proprio per portare la nostra linea editoriale nei locali, ovvero quello del fair play della non violenza perché si può parlare di calcio, seguire una partita anche senza litigare soprattutto senza litigare perché stiamo parlando di un gioco ragazzi Ci sarà un aperitivo e si trova il locale Angeli Rock In via Ostienze con noi ci sarà questa volta Fiammetta Fiorito Fiammetta Fiorito La signora in giallo rosso Alle ore dalle 8.30 in poi? Alle 8.30 in poi, vi aspetto tutti Basilica di San Paolo, di fronte la Basilica 30 metri a San Paolo Di fronte c'è il locale Angeli Rock, vi aspettiamo il 13 gennaio, giusto il 13? Grazie Grazie mille!